ci siamo appena svegliati ci prepariamo perché andiamo a l'eus di verona fiera di caccia e pesca ciao a tutti ci prepariamo il pranzo siamo qua che si aspetta di entrare aspetta ah che fai Grazie a tutti. Siamo appena arrivati dall'Eos di Verona, siamo molto stanchi ma soddisfatti perché è stata veramente un'esperienza bella, veramente costruttiva, abbiamo conosciuto diverse persone e è stato molto emozionante e poi parliamo dal lato pratico, è stato funzionale perché abbiamo fatto dei piccoli acquisti, cioè dei bei acquisti e vediamo un po'. Allora, un bel gilet della zotta per camminare e prendere alla posta in quanto è traspirante e non fa sudare, appunto una bella vestibilità, può traspira e diventa un bel aderente. C'è questo qui, ecco, bellissimo acquisto anche questo qui dell'universo, molto caldo, veramente col cappuccio che si può estrarre, si può togliere. Io ho preso una L, ho preso una L, ho preso una L più grande perché almeno anche sotto tutte le felpe che ho, molto calda. Questo è stato il mio unico acquisto perché non trovo calzini da donna, ho girato tutta la fiera cercandoli, ero addirittura disposta a prenderli da bambino mentre questo è stato l'unico stand ad avere una misura adatta a me perché se no mi distruggo i piedi. E purtroppo abbigliamento da donna se ne trova veramente poco, ci sono i soliti modelli e nulla, torno un po' delusa, mani vuote. Ero già in fase di montaggio quando ci siamo accorti che mancava l'ultimo acquisto. L'ultimo acquisto è un paio di ghette della 3A e in cui avevo immensamente bisogno in quanto le mie nell'ultimo giorno di caccia mi hanno abbandonato. E niente, mi sono fatto l'ultimo regalo di questa splendida giornata. Ciao a tutti e buona visione! Ciao a tutti e buona visione!